Hashtag noi amiamo gli animali. Bovaro del Bernese, scheda razza. Il Bovaro è un cane di taglia medio grande, conosciuto per essere un ottimo cane da guardia, da traino e da compagnia. È amichevole con tutti, ha un istinto predatorio assai limitato, probabilmente i contadini svizzeri selezionavano solo cani che non attaccassero galline, gatti e conigli. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a quattro zampe scopriremo insieme le caratteristiche del Bovaro del Bernese. Non è una razza adatta a vivere in appartamento, non teme le intemperie, in casa necessita di fare attività fisica e passeggiate. Il suo corpo massiccio è armonioso e ben proporzionato, la testa è corta e poco bombata e il muso è mediamente lungo e dritto, il collo è muscoloso e gli occhi sono grandi e scuri, le orecchie sono a V, alte e leggermente arrotondate. Il suo torace risulta essere largo e col petto ben sviluppato e la coda è naturalmente cadente e coperta da peli lunghi. Gli arti, robusti e muscolosi, sono in perfetto a piombo. Gli anteriori dal davanti risultano diritti e paralleli, i posteriori hanno una coscia lunga e muscolosa con ginocchio ben angolato. Il pelo è lungo e liscio, con un mantello nero con macchie focato da rosso al marrone sulle guance, occhi, arti e petto. Le macchie bianche sono presenti sulla testa, muso, collo e petto. Molto ricercati gli esemplari con i piedi bianchi e con la punta della coda bianca. Nonostante godano di ottima salute, sono ricorrenti patologie come displasia dell'anca, obesità, malattia di Willenbrand e atrofia della retina. Per questo video è proprio tutto, se volete saperne di più sul Bovaro del Bernese, cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi, conoscete qualche curiosità sul Bovaro del Bernese? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!